Inizia questa settimana a GRP Televisione una nuova rubrica dal titolo Sapere per Credere. Perché questo titolo? Spesso si dice infatti vedere per credere, ma le apparenze possono ingannare. Sapere per credere in pochi minuti si propone infatti di andare oltre le apparenze e scoprire come semplici nozioni che hanno superato la prova dei fatti possono aiutarci nella vita pratica di ogni giorno. Brevi programmi settimanali, quasi degli spot, cartoni e lavagne animate, documentari di vita animale, interviste a personalità della cultura, della scienza e della medicina nazionale ed internazionale. Realizzati con un linguaggio semplice alla portata di tutti, bambini, giovani, genitori, famiglie, ma anche studiosi, storici e medici. Programmi a sfondo socioculturale che vanno oltre la confessione religiosa da cui sono curati, quella dei testimoni di Geova. Siamo certi che li apprezzerete per ora 5 minuti, quindicinalmente in questa fascia oraria. Sapere per credere. Ma chi è questo? Non verrà mica nella nostra scuola. Buongiorno a tutti. Da oggi avete una nuova compagna di classe. Il suo nome è Priya e viene dall'India. Da dove ha detto che viene? Non lo so, ma sentite quel posto. Ok. Oggi lavorerete di nuovo in gruppi di due. Chi è che ha bisogno di un compagno e può lavorare insieme a Priya? Ehi, Sofia! Noi due siamo insieme, giusto? Sì, va bene, ok. Ok, perfetto. Allora, per la prima pagina ho pensato che potremmo fare così. Questo posto qui è occupato. Ok. Quindi, cosa ci ha insegnato Gesù sull'importanza di mostrare amore al prossimo come ha fatto il samaritano? Sofia! Se qualcuno ha bisogno di aiuto dovremmo trattarlo con amore e gentilezza. Ehi, Priya! Vieni a sederti con noi. Ciao, io mi chiamo Sofia. Ciao. Che bel vestito! Dove l'hai preso? L'ha fatto mia mamma. È un vestito del mio paese. Si chiama Salvar Sur. Questo è del mio colore preferito. Dici qualcosa del tuo paese. Dare di sei fisco da più felicità Chi da sarà felice pur se niente in cambio avrà Lo sai ci vuole poco se stervi vedi che Puoi dare già una mano a chi è intorno a te Giochi e regalini mi fan contento ma Se faccio io regalo provo più felicità Un gesto generoso l'ha detto anche Gesù Può far felici gli altri ma te ha ancora di più Scopi che nel dare c'è più felicità Puoi dirti voglio bene anche con semplicità Ti fiori un bell'abbraccio e fai vedere che Sul loro viso c'è un sorriso Grazie a te Grazie a te Grazie a te